Buonasera e bentornati a Carta Bianca in prima serata. Anche stasera tanti argomenti, tante interviste, tanti ospiti. Andiamo avanti a oltranza così finché Floris di là non dà la buonanotte. Iniziamo subito con i primi ospiti. Due esponenti di una sinistra in questo periodo non in sintonia, Paolo Pratesi e Lancia Servizio. Eccoli qua sui cubi. Buonasera. Buonasera. Ecco, benvenuta signora Lancia Servizio. Ma in realtà si sbaglia. Mi sbaglio? Mi sbaglio adesso. Vediamo se mi sbaglio. Mi sbaglio. Ce l'abbiamo una foto della signora Lancia Servizio? Non c'è la foto? Floris, 78 cartelli, non è neanche una foto. Va bene. Allora, vediamo chi è lei. Se lei non è... Allora, Paolo Pratesi non è. No, Paolo Pratesi sono io. Sì, allora, però se ognuno qui dice le cose andiamo in confusione. Noi e chi ci segue anche da casa. Allora, lei chi sarebbe? Anna Roversi. Giusto. Allora, brava, brava, brava. Visto, conosce pure il nome e cognome. Complimenti, brava. Signora Roversi, adesso, ci dica come pensate di ricompattare il partito, visto che sa tutto lei. Il nostro partito si muoverà a compatto nel momento in cui verranno eliminati tutti i retropensieri e quindi noi potremo iniziare... Retropensieri, Paolo... Scusi? No, no, prego, vada avanti, l'ascoltiamo volentieri. No, dicevo che l'interesse del nostro partito è rivolto esclusivamente a quello dei cittadini. No, 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 ma non vediamo l'ora di sapere, proprio da lei che insegna, ci dica, ci dica. Nell'interesse dei cittadini e la comunità alla quale noi ci rivolgiamo, perché è con loro che noi vogliamo lavorare e li vogliamo accompagnare nel loro futuro... Signora Roversi, ci dica un po' una cosa, come mai così precisina, però non è sposata? Mi scusi? Come mi scusi? 40 anni, donna in carriera, sicura di sé, eppure è da sola, come un cane. Come ce la spiega questa cosa? Ma cosa c'è? Quel barattolo di pesto, mezzo vuoto nel frigorifero, mezzo pieno, mezzo vuoto, un barattolo di pesto che l'aspetta per una pasta davanti alla televisione la sera, la tristezza, come mai? Ah, non sa cosa rispondere, ma come sa tutto. Allora, che dice, mi sbaglio oppure c'ho ragione pure questa volta? Voglio fare una bella cosa, signora Roversi, lei ci pensa davanti alla pubblicità, magari poi noi torniamo con la cresta anche un po' più bassa, va bene? Ci vediamo tra poco, ci vediamo tra poco, ci vediamo tra poco, ci vediamo... Tra poco ci vediamo, con te ci vediamo subito perché sei un cane maledetto, stacchi dove c***o guardi, cretino.